Con questa nuova associazione c'è una volontà di puntare alla società civile? Il progetto di scelta civica è quello di valorizzare le energie della società civile in maniera costruttiva e intelligente cercando che le persone che non vivono di politica ma vivono di altro, per fortuna, si impegnino in maniera concreta per essere presenti all'interno delle istituzioni e cambiare le cose. Io penso che qui a Pineto abbiamo una grossa opportunità, è finito un ciclo, quello dell'era Monticelli, noi ci candidiamo come scelta civica a costruire per Pineto un progetto politico che possa dare un nuovo slancio a questa bellissima comunità. Penso che quindi andava completata l'esperienza del precedente ciclo. Purtroppo si è interrotta e interrotta male, noi insieme agli amici qui di Pineto ci candidiamo per far sì che possa costruire un progetto importante che possa far tornare a sprendere ancora di più la bella Pineto. Abbiamo costituito un nuovo gruppo assolutamente di novità e composta da una variegata categoria di persone. Ci sono tanti uomini e donne e soprattutto donne presenti in questo gruppo, cosa che ha sorpreso anche me. Ci sono giovani, ragazze e ragazzi, professionisti, i quali hanno messo a disposizione le loro condizioni tecniche per noi. Ci siamo quindi riuniti dopo un periodo di sofferenza all'interno di Pineto perché non ci sono gli strumenti per partecipare alla vita politica. Ci siamo riuniti e abbiamo costituito questa associazione e di fatti, come dice anche la Locandina, ci siamo presi il nostro spazio. Ora ci presentiamo la comunità di Pineto per dare anche finalmente spazio ai cittadini per far prosperare Pineto e quindi trattare le tematiche come lavoro, sociale, turismo, che sono i fulcri delle problematiche qui.